Bella ragazzi e benvenuti a questa recensione a caldo dell'episodio 90 di Boruto Titolo dell'episodio Mitsuki e Sekiei Ci ho dovuto pensare un attimo Chiaramente ragazzi tra parentesi Sekiei è Nino D'Angelo Io lo chiamerò sempre Nino D'Angelo Iniziamo ragazzi, le considerazioni le farò alla fine Prima vi voglio raccontare la puntata E poi vi dirò quello che penso su questa puntata Iniziamo e chiaramente da dove iniziamo Da dove ci eravamo fermati quella scorsa Ovvero Boruto, Mitsuki e Sarada insieme Contro Q, Nino D'Angelo e quella con gli occhi sbrillucicosi Io pensavo che si scontrassero tutte e tre insieme Nel senso, magari Boruto va contro Q Mitsuki va contro Nino D'Angelo E quella con gli occhi sbrillucicosi contro Sarada Manco per il cazzo Perché se facevano così la finivano velocemente No, devono allungarla E quindi cosa hanno fatto? Q stava male E quindi deve andare a riprendersi, no? Però prima ha fatto una cosa fantastica E lui, Mitsuki me la pagherai E poi ha cominciato a urlare come urlano in Dragon Ball E dice, io ho detto Succedono due cose O diventa Super Saiyan Può succedere O si caga addosso Due erano le cose E io ho sbagliato Perché non si è diventato Super Saiyan E non si è neanche caricato addosso Ma gli si è crepata la faccia Comunque Q scappa Perché vuole andare a riprendersi E intanto Mitsuki Combatte con Sekiei Sarada E Boruto Vanno avanti Vanno a inseguire Q Però vengono fermati Da Quella con gli occhi sbrillucicosi Passiamo velocemente al combattimento tra Mitsuki e Nino Ma è una cosa molto veloce Chiaramente vi fa vedere che Nino D'Angelo è incazzato come una iena Usa il potere di creare le cose con l'argilla Io ragà non ce la faccio Non ce la faccio Non puoi imitare Deidara Deidara era di tutt'altro livello Deidara era Deidara Lo faceva perché lui credeva in quella cosa Oh l'arte di qua e di là Tu no Crei insetti Crei schifezze Non ti permettere Non ti permettere Non ti permettere di pigliare per il culo Deidara No Comunque Crea tutti questi uccellini Queste farfalle strane Insetti li lancia contro Mitsuki Mitsuki non è che non si difende Cerca di schivarli Però non attacca Non attacca mai Nino Mai Li schiva sempre Si ferisce anche Però non attacca Nino Perché non vuole combattere con lui Passiamo ragazzi al combattimento tra Boruta, Sarada E quella con gli occhi sbrilluccicosi Allora Chiaramente quella con gli occhi sbrilluccicosi Ah le cose belle Io voglio le cose belle Voglio i tuoi occhi Sarada I tuoi occhi sbrilluccicosi Tu morirai Le solite cose No Sarada gli uccelli Ma lei ha detto Che cazzo Che cosa vuoi Tu vuoi il sharingan Su dai La porta lì Coraggio Comunque Quella con gli occhi sbrilluccicosi Incazzata pure lei Tutti incazzati in sta puntata Evoca un golem gigantesco Veramente gigantesco Minchia Chiaramente Boruta e Sarada Schivano Cercano di schivare I colpi del golem E si ritrovano In un punto Dove dietro di loro Dietro di loro C'è una roccia Neanche così grande Comunque c'è una roccia Boruto sente una voce E io lì Ve lo dico Vi dico la verità Me l'ero dimenticato Boruto cosa fa Morde il dito Tecnica del richiamo E richiama Garaga Io me l'ero dimenticato Che c'era Garaga Vi dico la verità Mi ero dimenticato di lui Ok Evoca Garaga E chiaramente Qui ti fa capire Che comunque Come tanti di voi Hanno anche detto Garaga Diventerà Credo L'animale Di Boruto Cioè Garaga ha detto Voglio cercare di fidarmi Ancora dell'essere umano Quindi si vuole fidare Ancora di Boruto Combatte Chiaramente il golem Il golem è molto forte Però insomma Garaga è Garaga Le prende Le sberle Garaga Non ho niente da dire A un certo punto ragazzi Succede una cosa bellissima Si vede tipo Garaga Che sta dando le codate In faccia al golem No? E la ragazzina Con gli occhi sveglucicosi Oh Non aumentare la bruttezza Alla bruttezza Ma come? Ma Povero golem Perché Perché lo devi trattare così? Cioè È dalla tua parte E tu Gli dici che è brutto Che fa schifo Non aumentare la bruttezza Uno bruttezza Dai Cioè Ma Ma ha fatto ridere me quella cosa Non aumentare la bruttezza La bruttezza Chiaramente ragazzi Mentre Boruto è sulla testa di Garaga E sta combattendo col golem Sarada Indisturbata Compare alle spalle Della ragazzina Con gli occhi strani E cerca di colpirla Con il kunai Chiaramente la ragazzina Se ne accorge Si gira Apre gli occhi Come Vabbè Apre gli occhi E Sarada Aveva lo sharingan attivo Chiaramente In quel momento Si blocca un attimo E Si La ragazzina Con gli occhi Salvami Salva mi Acuta Acuta lo chiama Acuta Salvami Il golem Va per salvarla Ma viene preso Viene Bloccato Da Da Garaga Chiaramente intorno al corpo Comunque è una È una sorta Non è un Non so se è un'anaconda Ma comunque no Non lo so Viene stritolato Da Garaga Però resiste E addirittura Cerca di romperlo Garaga Cosa succede? Boruto Chiaramente che era sempre Sulla testa di Garaga Rasengan Glielo lancia Il suo solito Rasengan Quello che sparisce Lo lancia Verso l'occhio Nel golem Esplode E il golem Chiaramente poi Viene sconfitto Tramite la stretta Di Garaga E Ok Viene Il golem È sconfitto Ma si deve Disintegrare Quindi si disintegra Cadono Pezzi di roccia Di tutte le parti E una roccia enorme Cade addosso Proprio Alla ragazza Con gli occhi Sveglucicosi E questa è la sua morte E passa al treno E qui ragazzi Siamo a metà Della puntata Bella? Vi è piaciuta? Bene Andiamo avanti Passiamo chiaramente A Mitsuki E Nino Allora Come vi ho detto prima Chiaramente Nino Attacca Mitsuki Con le sue tecniche Tutto Ma Mitsuki Non risponde Si difende Non si difende Scappa E cerca di evitare i colpi Ma non Contraattacca A un certo punto ragazzi Con un escamotage Madonna che parola Sono sofisticata Con un escamotage Nino D'Angelo Dice Ok Non vuoi combattere con me? Ti convincerò a combattere Perché io ucciderò Boruto A parte che non ce la fai Però comunque Ucciderò Boruto E chiaramente Mitsuki In questo momento Dice Oh va bene Vuoi combattere? Se non c'è altro modo Combatteremo Durata del combattimento Ragazzi 3 secondi Beh Lungo no? Ci sta Il combattimento Non succede praticamente niente Scontro tra kunai Ci allontanano Nino D'Angelo Tecnica Fa un vermone Che dovrebbe poi esplodere Vicino a Mitsuki Lo lancia a Mitsuki Mitsuki Tecnica Fulmine Serpente di fulmine Il serpente Il vermone non esplode Quindi diventa Schifo Cioè diventa niente Ma perché ragazzi Ha vinto Mitsuki? Perché Mitsuki Utilizzando la tecnica Le tecniche Del fulmine E se chi è Quelle della terra Il fulmine Vince Da come l'hanno spiegata loro Va bene Passiamo ragazzi Al nostro amato Onoki Che stava camminando Su un dirupo Da come sembrava Disegnato Era su un dirupo Era attaccato al muro Così E andava avanti così Ho capito che Non ha il bastone Che è anziano Tutto quello che volete Però perché devi camminare Attaccato al muro Così Va bene Va bene Arriva Secchi Ragazzi Che è quel ragazzo Un po' strano Sempre del villaggio Della roccia E gli dice Ah Akatsuchi Mi dimentico sempre Akatsuchi Mi ha detto di venire a salvarti Io ti vengo a salvare No 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 Dice Onoki Devo andare in un posto Per porre fine A questa cosa E Onoki Non lo vediamo più Posso immaginare Dove va Ma lo vedremo poi Nella prossima puntata Se lo faranno vedere Nella prossima E se non in quella Dopo ancora Arriviamo verso la fine E arriviamo a Q Arriva nel posto Dove c'è anche lo scienziato Quello scienziato pazzo Che lo scienziato pazzo È legato sopra un tavolo Va bene Cosa fa Q? Lo libera E lo scienziato Chiaramente Guardando il corpo Di Q Dicevamo Siamo messi male Perché ci serve un cuore Secondo voi Com'è andata la faccenda? Che cosa ha fatto Q? Da chi ha preso Il cuore? Difficile eh C'era solamente lo scienziato lì Da chi ha preso il cuore? E poi ragazzi Se proprio dobbiamo essere pignoli Lo scienziato È lì perché Perché è uno scienziato E le cose le sa fare Se le cose le sa fare anche Q Che cazzo serve lo scienziato? Va bene Va bene Ne parleranno poi Nella prossima volta In quella dopo ancora Torniamo ragazzi Da Mitsuki e Sekiei Che è ancora in fin di vita Chiaramente E c'è il discorso finale Di Sekiei Che dice Io non volevo altro Che qualcuno da proteggere Avevo gli amici Che ha nominato Tutti gli altri Quindi la ragazzina Quello con i capelli lunghi Il pennarello Tutti no? Li ha nominati tutti E pensava che anche Mitsuki fosse suo amico Ma Mitsuki alla fine Era suo amico Cioè voleva salvarlo Mitsuki Il problema è che Mitsuki non lascia Boruto Boruto è il sole per Mitsuki Sekiei ragazzi Comunque muore E passiamo a Boruto Che insieme a Sarada Sono arrivati al palazzo Quindi al di fuori del palazzo Dove c'è Q Dopo un secondo Ci arriva anche Mitsuki Dopo un secondo E si è anche cambiato Mitsuki Unchia Bravo Mitsuki Comunque Cosa succede? Esce Q Dalla finestra E vedono anche loro da sotto Chiaramente Guardando da sotto il vestito Vedono che c'è qualcosa qui Quindi capiscono che Q Ha un cuore Quindi si è impiantato un cuore E finisce così la puntata Devo dire quello che penso Penso che questa puntata Non abbia senso Potevano accorciarla Potevano farla In diversi modi Questa cosa qui Non ha senso Hanno voluto dare Cioè praticamente Spazio a Mitsuki E Sekiei Questo hanno voluto fare Anche se Come vi ho detto all'inizio Metà episodio È solamente il combattimento Tra Boruto Sarada E quella Con gli occhi brillucicosi Metà episodio È questo combattimento Comunque ragazzi La puntata finisce qui Non vi dico niente Cioè non vi dico Spero che nella prossima Succeda questo Succeda quell'altro Perché tanto poi Non succede La vogliono allungare E stanno rovinando tutto Stanno veramente rovinando tutto Secondo me Comunque ragazzi Il video ve lo concludo qui Se è piaciuto lo sapete Un bel pollice in su Se non è piaciuto Chiaramente Pollice in giù E Bella Alla prossima